E' importante essere consapevoli che partiamo da una base molto importante e consolidata di risultati raggiunti per costruire quello che è un po' l'evoluzione della nostra corporate social responsibility, un'evoluzione che va verso il concetto di corporate share value, di creazione di valore condiviso. La creazione di valore condiviso per un'azienda come Telecom Italia e quindi qualcosa che noi abbiamo intrinseco nel nostro DNA, ovvero ogni azione, ogni progetto che facciamo è misurabile non solo per l'impatto economico e finanziario che genera, ma anche per un impatto sociale che deriva dalla soddisfazione dei bisogni della società, del territorio in cui operiamo. Quindi il lavoro che stiamo facendo di unire valori e KPI relativi all'impatto business dei nostri progetti e la valutazione di KPI sociali relativi all'impatto che abbiamo sui nostri cittadini, sulla nostra sanità, sulla nostra scuola, sulla nostra burocrazia, sulla creazione di posti di lavoro, è il lavoro che stiamo implementando con il progetto di corporate share value.